Le notizie in 60 secondi, torna l'allerta meteo in Campania a partire dalle 6 di domani, martedì e per 24 ore, attese piogge e temporali, pericolo idrogeologico su tutta la fascia costiera della regione Campania. Tra ali festanti di fedeli è arrivata oggi a Casamiccio la lunna contenente i resti mortali di San Gabriele della Dolorata. Dopo un passaggio per Piazza Marina e Corso Luigi Manzi le reliquie sono arrivate nella chiesa dove assede la congrega. Manca ancora tempo prima di rivedere l'ischia al Mazzella con i lavori che continuano ma sono ancora lontani dal termine. L'ipotesi più accreditata resta quella del mese di novembre mentre si fa largo l'ipotesi Salvatore Calise come stadio di casa per le prossime sfide. Questa sera alle 21.10 torna a bordo campo il commento, ospiti in studio il tecnico dell'ischia calcio Enrico Buonocore e l'autore del gol vittoria del Real Forio Luciano Iaccarino a condurre il direttore Enrico Buono. Prossima edizione domani alle 13. Grazie a tutti.